Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, stiamo per entrare nella settimana di Sanremo. Martedì inizia Sanremo 2020, come al solito il festival monopolizza la discussione anche sulla musica per un'intera settimana e secondo me si perde un po' di attenzione, diciamo, verso chi forse davvero lo merita e ci si concentra sui protagonisti, sui concorrenti, sulle canzoni del festival. È proprio un'industria che, diciamo, è come se prendesse ossigeno con il festival. Infatti, molto spesso, noi ci dimentichiamo che alla fine il festival di Sanremo, per chi ci va, è lavoro. Io mi ricordo di un'intervista ad Arisa, in uno dei suoi momenti di lucidità, quando gli hanno intervistata, forse era, sì, non mi ricordo, qualche intervista prima di un'edizione in cui lei partecipava, alla domanda, ma come mai il festival quest'anno, lei rispose molto onestamente dicendo beh, il festival è un anno di lavoro, nel senso un artista ha bisogno, c'è una fascia di artisti che ci sono quelli troppo famosi che non ci vanno, poi ci sono quelli che stanno nel mezzo che partecipare a Sanremo gli svolta, diciamo, l'anno, se non anche più di un anno, due anni, poi in base a come va. Sicuro si garantiscono un anno di lavoro, quindi alla fine ci sta l'industria ha bisogno in Italia di tutto questo carrozzone, che poi ogni anno ci sono polemiche, sì, sì, si appesantisce un po', la questione è perché comunque anche questo, anche Sanremo, alla fine è un programma televisivo, la musica poi, sì, è semplicemente molto spesso un pretesto, no, per fare, per fare altro, diciamo, per fare, diciamo, uno show, e quindi la musica, secondo me la musica quando arriva in televisione è la cosa che più ci perde, la televisione ci guadagna dalla musica in tutti i sensi, la musica ci perde e adesso ci tocca un'altra settimana e vedremo che cosa succederà, chi saranno i protagonisti quest'anno, quali canzoni spiccheranno, un po' di polemiche ci sono state, non entro nel merito perché sinceramente non ha senso, Sanremo, per chi ci va, alla fine è lavoro, il lavoro è lavoro, come si dice, quindi staremo a vedere, io non lo so se lo vedrò oppure no, fatemi sapere voi che intenzioni avete, se lo guarderete, non è che le premesse di queste settimane, diciamo, mi abbiano veramente incuriosito, io forse l'ho già detto in un video, rimpiango un po' le edizioni di Claudio Baglioni l'anno scorso, l'ho già detto in un video, anche se poi sono rimasto sorpreso degli artisti, di alcune scelte, pensavo che dopo Claudio Baglioni non ci fossero proprio più speranze di rivedere, diciamo, quella cifra, quegli artisti un po' presi dal mondo indipendente, invece qualcosa c'è pure quest'anno, però ecco, ridateci Claudio Baglioni, concluderei questo video così, fatemi sapere se lo vedrete, che ne pensate, e buona fortuna, ci attendi una settimana veramente, dove si parlerà soltanto del festival, auguri a tutti quanti noi, fatemi sapere che ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!